Ciao! Oggi parliamo di lettura digitale e in particolare con la e-reader e tenterò di sfatare i pregiudizi che accompagnano questo tipo di lettura. La letteratura e la letterura si evolvono insieme e questo è il futuro. Non sarà solo questo, sicuramente, perché il digitale non ha tolto la carta e io leggo in ugual misura sia su Kobo, non ve lo giro perché c'è un libro in copertina e voglio che vi concentratevi invece sulle e-reader. Quindi leggo in ugual misura sia e-book che cartaceo. Io ero contro il Kobo, contro anche il Kindle, contro la lettura in digitale, in ogni sua forma, ma a poco poco, un paio d'anni fa, ho iniziato a leggere in digitale, sul telefonino, pochi libri e devo dire che anzi non solo mi piaceva, ma che leggevo più velocemente. Perché? Sapete che ci sono quelle persone che leggono più velocemente in e-book o in cartaceo, in inglese, in francese, in tedesco, comunque in lingua che in italiano? Io sono una di quelle persone, ad esempio. Ma per un motivo molto semplice, banale anche, perché sull'i-reader, anche su quell'applicazione che avevo scaricato io per Android, c'era la percentuale, c'è la percentuale di lettura, cioè tu puoi selezionare la percentuale di lettura o il numero di pagina. Selezionando la percentuale, io rincorrevo quei numeri fino ad arrivare al 100%. Quindi non è che finivo i libri in un giorno, più o meno, però quella percentuale lì mi invogliava ad andare avanti. La lettura digitale su cellulare, non so se per tablet è anche così, ditemelo voi, è deleterio, cioè veramente ve la scusa. Io ho aspettato due anni a prendere il Kobo, a convincermi a prendere il Kobo, e ringrazio ancora i miei genitori per avermi regalato questo Natale, perché lì sì che peggiorate la vista, lì sì che vi viene mal di testa e soffrite di emicrania, lì sì che quel tipo di lettura fa danni, ma non la lettura specializzata su iReader che comunque sono costruiti e progettati apposta perché la carta sia carta, perché lo schermo non sia identico a quello del cellulare, del computer o del tablet. Poi ripeto, io tablet non ho mai letto su tablet, quindi non ho idea di come sia, ditemelo voi se avete avuto esperienza. Quindi, quali sono i pregiudizi che ho dovuto, che ho combattuto, che ho sconfitto e che invito a fare, e che invito anche voi a sconfiggere, a vincere? Prima di tutto, non è vero che la lettura in digitale arreca danni alla salute, in particolare alla vista e alla testa. Anzi, è vero il contrario, perché spesso in cartaceo, per risparmiare carta appunto, l'editore sceglie un font piccolo o medio, medio-piccolo-medio, che per me, almeno per quanto mi riguarda, non è abbastanza. E questo è un forte limite per la lettura in cartaceo per me, perché io sono miope e porto gli occhiali ogni giorno, ho le lenti a contatto e ho bisogno di scritte grandi, ho bisogno di font enormi. Sul cellulare arrivavo a caricare al massimo la scrittura, mentre su Kobo, se lo carico al massimo, c'è una parola, anzi una lettera per ogni pagina, ok, non sono a quei livelli per ora. Spero di non arrivarci mai, perché sarebbe davvero disturbante, fastidioso. Gli ebook hanno come vantaggio, non indifferente, quello di costare meno. Dipende, anche lì. L'ebook costa meno, semplicemente perché non c'è carta. La carta costa. Viene meno la carta e si paga il contenuto, l'editore, insomma, diciamo il contenuto, però il discorso è molto più ampio e più complesso di così. Ci sono dei libri che costano poco, come ad esempio un Dan Brown, visto che è un autore molto venduto, costa sia in digitale che in cartaceo, meno in digitale, più in cartaceo, però visto che è un autore di punta, un autore contemporaneo di punta, che vende milioni e milioni di coppie, ogni volta che esce un suo libro, lo si fa pagare tanto sia in cartaceo che in digitale. Però per altri autori, magari anche per i classici, questo non avviene. Addirittura ci sono delle promozioni, ma alcuni giorni, per quanto riguarda il Kobo, ma sicuramente sarà così anche per il Kindle, non so la politica Amazon come ragione, io possiedo Kobo, ci sono delle promozioni allettanti, ad esempio, anche per gli operatori Vodafone, tra l'altro, perché io ho preso il Giovane Robot, edizione EO, in digitale, da IBS, e l'ho caricato su Kobo. E ho preso, tra l'altro, appena sono entrata, fa parte della comunità, mi sono iscritta a Kobo, al sito, appunto, per caricare gli ebook, mi è arrivato un buono di 5 euro, per il primo acquisto. e poi ci sono dei giorni in cui ci sono delle novità, delle offerte, e quindi abbiate delle promozioni, che spesso in libreria non abbiamo, non ci sono i saldi, non esistono i saldi, sì, abbiamo incontrato qualche sconto a Delphi, cioè, quella di Adelfi, quella di, scusate, quella di Feltrinelli non era uno sconto, ma era una promozione, è diverso, perché non è che ti scontavano qualcosa, ti davano una coperta, bellissima, tra l'altro, però, non era sconto, c'era lo sconto in Audi, c'è lo sconto adesso Oscar Mondadori, per chi non lo sapesse, può affiondarsi in libreria e prendere tutto quello che vuole, però, gli sconti in libreria, almeno per quello che vedo io, non sono così allettanti come quelli in digitale, e l'ultimo pregio, secondo me, della lettura digitale, che questo, pesa molto meno, di questo, indubbiamente. Io sono una pendolare, e viaggio molto sui mezzi, e l'unico, forse, durante, durante, faccio due ore di treno al giorno, ogni, ogni giorno, cinque giorni su sette, e in treno, io leggo tantissimo, cioè, leggo, quando non ho tempo per leggere a casa, leggo in treno, quindi, due ore di lettura al giorno, nei periodi in cui sono molto piena di impegni, poi, vabbè, trovo tempo anche a casa, ma questo è un discorso, cioè, su dove trovare tempo, per leggere, magari, se vi interessa, farò un video a parte, però, io leggo molto sui mezzi, leggo molto, nelle, nelle ore che ho buchi, nei momenti buchi, della giornata, ad esempio, non lo so, devo andare a lezione, ho lezione, una lezione di un'ora, alle otto e mezzo, una lezione di un'ora, alle dieci e mezza, e ho, dalle nove e mezza, alle dieci e mezzo, ho buco, mi metto a studiare, magari finisco di studiare, e ho quel quarto d'ora di tempo, libero, tiro fuori questo, e, visto che i libri universitari, oltre a non costare poco, pesano anche parecchio, è preziosissimo, per non spaccarsi la schiena, quindi, anche qui, il cartaceo, paradossalmente, fa più male alla salute, fisica, dico fisica, del, del digitale, perché sarete d'accordo con me, che portarsi dietro questo, che vi assicuro, non pesa niente, pesa meno, portarsi dietro questo, o peggio ancora, questo, capite, cioè, io in treno, porto in giro, anche quando vado dal medico, e sono in sala d'attesa, mi porto questo, altrimenti, cioè, ciao, la schiena mi si spezza in due, ora della fine della giornata, davvero, di convincere più persone possibili, ad adottarlo, perché, è il futuro, ma, non, i libri, in cartaceo, non verranno mai scalzati, perché il libro nasce cartaceo, e morirà cartaceo, cioè, anzi, non morirà mai, il digitale, accompagna, questo tipo di lettura, e tra l'altro, tantissime biblioteche, vi avevo fatto un video, sulla mia esperienza in biblioteca, sia come utente, che come bibliotecaria, quindi, se vi interessa, vi invito ad andare a recuperarlo, ve lo lascio giù nell'info box, anche le biblioteche, stanno utilizzando, questo sistema di prestiti, online, io vi invito a raccontarvi, le vostre esperienze, giù, giù nell'info box, sì, nell'info box, giù nei commenti, perché, è un tema, che mi sta molto a cuore, e vorrei, continuare a parlarne, con voi, se questo video, vi è piaciuto, vi invito a lasciare like, e iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, per non perdere i prossimi video, direttamente sul pulsante rosso, iscriviti, o sul mio faccione, che comparirà qui, e niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!